Musica Musica Quindi è il nuovo partito tra FETOS contro il telecronisti Questa è entrata sia a tre per i telecronisti Qui due i migliori in campo alla mia destra Passanova Alla mia sinistra a dire Come parte di Passanova ha lasciato la tua Guarda Siete vero Guarda come sta la tua Peccato veramente Perché è una nuova tendenza E' vero, è vero, è vero, è davvero buono, purtroppo, come stesso capita, il fisico non ci permette di completare la partita al meglio, loro bravissimi anche, hanno rimontato, o no, la nostra rimonta si può dire, e ovviamente da chi mi ricorda che ha fatto, che è stato un po' di devastante, mi ha fatto un po' un po' un po', miglioreremo, sono nuovi innesti e miglioreremo. E' vero, devo andare a qualcuno i tuoi gol? Io con l'Aperito. Adesso passano per le nostre, adesso passiamo a prendere una carta con i tuoi gol, con lei, con la mano avanti, però devo dire la verità, avete giocato solo nel primo tempo tutto il passo profondo, non la squadra. Sì, purtroppo, anche noi fisicamente oggi, abbiamo fatto un po' veramente bene. Infatti, nel primo tempo a marzo ho detto che il gioco è stato veramente stretto a loro, fortunatamente utilizziamo molto le occasioni che creiamo, e ce l'abbiamo fatta anche oggi. Vabbè, ma ne vengono dedicati al primo tempo. No, 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 no. Tu mi dico alla squadra che piano piano teniamo duro e riusciamo a vincere praticamente il terzo del campo. Come vengono? Grazie. E velico! Grazie. Grazie.